Traditi pare da un'errata interpretazione della cartografia e dal maltempo, ma salvi sia pur col brivido. Hanno rischiato grosso due escursionisti potentini di 42 e 23 anni, sorpresi ieri pomeriggio dalla tormenta a 1600 metri di quota sul monte Alpi a Castel Saraceno. Dopo una notte alla ghiaccio, temperatura sotto zero, sono stati recuperati questa mattina dai vigili del fuoco. Però evidenziale il telefonino che ha consentito già ieri sera la geolocalizzazione dei due, rifocillati e visitati da un medico nel rifugio Favino, stanno bene. E' stato questo elicottero a tirarli a bordo col verricello in un canalone della parete sud-ovest della montagna. Sono state ore angosciose di duro lavoro per i volontari del soccorso alpino Basilicata, due squadre guidate da Francesco Maturo, per i carabinieri e l'intera macchina dei soccorsi coordinata dal prefetto di potenza Annunziato Vardè. Impossibile il recupero via terra sulla via alpinistica per la neve, la nebbia e il rischio valanghe, il sindaco di Castel Saraceno Rocco Rosano, che la montagna e i suoi rischi li conosce bene, ha suggerito così subito l'impiego dell'elicottero. Dopo un primo tentativo fatto da quello militare, abilitato al volo notturno, giunto da Gioia del Colle, l'operazione di soccorso si è conclusa felicemente poco prima delle 10 di oggi. Sospiro di sollievo per le famiglie dei due uomini, che pure la montagna la conoscono, soddisfazione per l'avventura lieto fine del sindaco di potenza Mario Guarente, che in una nota ha ringraziato per la preziosa assistenza il primo cittadino di Castel Saraceno e quanti hanno reso possibile rischioso salvataggio.